Villa Marina si trasformerà in una villa per anziani. I tempi purtroppo ancora non si conoscono, ma la decisione ormai è stata presa. I coproprietari dell'immobile, IMSS e Postelegrafonici, sollecitati dal comune per effettuare in tempi brevi un restyling della struttura, hanno programmato per il 27 febbraio a Pesaro un incontro in cui verrà presentato il progetto. Senior Housing è il nome che darà forma e funzionalità alla vecchia colonia di epoca fascista, convertendola in un residence da 60 mini appartamenti e servizi sociosanitari per anziani over 65. Si tratta di un investimento complessivo di 16-17 milioni di euro, dove ad essere recuperati non saranno solo gli 8.000 m2 del complesso, ma anche l'area sportiva adiacente. Nel piano di lavoro sono stati coinvolti anche due giovani pesaresi che da anni lavorano all'estero, ai quali il comune di Pesaro, in vista dell'appuntamento culturale del 2024, gli ha affidato l'incarico di decorare la facciata principale dell'immobile. Via dunque i teloni svolazzanti che negli anni assieme alla manutenzione periodica dei ponteggi hanno visto ammontare i costi a più di 200.000 euro. Secondo il nuovo progetto, il volto di quasi 150 m2 dell'ex colonia sarà abbellito da documenti e giornali dell'epoca rielaborati con foto d'archivio della villa marina passata per guardare con ambizione a quella del futuro. Nicola Perugini e Tommaso Fiscaletti hanno le idee ben chiare per la proposta che vogliono fare alla loro città di origine, presentando un progetto che possa arricchire di immagine e contenuto uno spazio che da fine anni 90 vive nel dimenticatoio di istituzioni e autorità.